bello a tutti ragazzi dello shock team qui è di shock e kevin shock ben ragazzi bentornati sul nostro canale che oggi siamo qui su model warfare 3 come i vecchi tempi ma su pc e oggi ora vi spiegherà un po kevin le regole di questo nuovo 2 player 1 1 qualcosa praticamente io uso il mouse sparo miro lancio no ricarico se hai voglia ricarico mi muovo guardo cambiarma ci dico si muove droppeggia salta lancia flashbang stordenti granate e basta io faccio diciamo la parte movimento movimento in avanti indietro lui invece visuale e poi spara quindi ragazzi ora andremo a trovare un dominio veloce sperando di trovare hacker ed eccoci ragazzi su resistance useremo la cr senza caricatori aumentati solo silenziatore con impatto io l'ho in culo per una roba del genere abbiamo quindi ora usa la cr abbiamo anche abbiamo anche le persone famose squadra abbiamo heisenberg harry potfler e siamo in due però nella nostra squadra non so se rendo guardate non si connetrono gli altri guardate c'è uno che si connetrono ah ecco harry potfler è con noi e anche heisenberg avevo visto uno no 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 entra da qua entra da qua al solito giro mira forza 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 si ma tu spara per spara sparano scoppa sparano scopli guarda 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 lì guarda dai 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 no no con impatto vedete guardate un po' le spalle mamma e entra entra si ma guarda le spalle però guarda ci beh no no non gli entri mai lo c'è le granate tu ok lancio io dritti dritti ok c'è di lì è lì fermo però fermo due 2 tg di fila aspetta L'obiettivo è raggiungere il specialista L'obiettivo è raggiungere il specialista E' troppo, cazzo Gira, gira, gira Via, 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 via Mamma mia che pro Fermo, fermo, fermo Allora, aspetta, fermo Allora, qua si lancia una granata e siamo finiti Guarda là Guarda, guarda sempre Tieni la visuale, fermo Bravo, fermo Andiamo su da qua, fermo Fermo, fermo, fermo Fermo, fermo, fermo Fermo, fermo, fermo Fermo, fermo Aspetta che lancia una stordente, così Eccolo, l'ho visto, l'ho visto Vai, vai, no Alex, Alex, l'hai mai messa il cap Come ha fatto a vederci Ah, aveva gli infrarossi Quello là è forte perché l'assassino e invisibilità insieme Un contrasto davvero cadardo Le dancio io Oddio, doppia quasi Tanta, troppetta, troppetta Eh, ho provato a dobbaggiare Ah, si scompetta come fusione Dai, via, via, via Gira, gira, gira Mira, 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 mira Non lì, là Ma c'era uno lì Sì, ma se c'era uno lì Guarda, prima a sinistra Poi a destra E per quello che non prendi mai le mani È qui Dov'è? Devi guardare sempre gli angoli Ma sai che si nascondono i campeggiatori Ma dai Dai, se li trovo new best Alex, cheater Aspetta, fermo, fermo Facciamo di lì Porco schifo Sì, sento lo so Fermo, fermo È sempre lì Vedi che c'è un puntito E tu devi guardare la mappa Tu muori perché non guardi la mappa Fermo Ora è qua, ora è qua Vai, 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 guarda Guarda, guarda in giro Via, via, via Dietro, dietro, dietro Ma non devi troppeggiare Tu devi Sparare no scope Tu vuoi sempre così Mira dritto Dai, gira Gira, gira, gira Vai, vai, vai Mira Ora, appena giro Mira Esci, esci, esci Qui Esci, gira Tropeggia, doffreggia Sì, ma devi sparare no scope Guarda no scope E poi invece di sparare sempre Stai cr 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 Dai Dai Vai, vai, vai Aspetta, stavolta avanti No Non ho ancora avanti Una di granate C'è uno lì Con l'infettazione tattica Vai, da là Se ti vengono dietro Eh Vai di qua Non hai l'istinto di sopravvivenza Di Modern Warfare 3 Sei perso Perché muori sempre Gira Da là Da là Devi guardare là Non devi mai guardare lì Vai, vai Guarda tutto 130 gradi devi essere Non 360 Da qua Piano, piano Ora gli facciamo Dai Dai Doppietta Su Su No Cambia arma Cambia arma C'è uno dietro C'è uno dietro C'è uno spavolato C'è uno spavolato C'è uno spavolato Con l'infettazione tattica Gira, gira, gira Gira che andiamo a braccarlo Porto schifo Non guardi mai La mappa Aspetta Ce n'è uno dietro Prima Vai Dentro Spara G Guarda, guarda là Ricarica e guarda là Aspetta Vai, 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 vai Guarda dietro Guarda da qua su Da qua su Esci mirando Esci mirando da là Perfetto Piano, piano, piano No Ti scoprono se non c'è la granata Sanno dove sei La vedo in una direzione Ah, è nostro Tu Le granate Devi dimenticare che ci sono Dimentichami che ci sono C'è uno qua C'è uno Guarda Sì, ma guarda Ci però spara C'è uno Porco schifo Adesso fermo Tu non sei fatto C'è uno, c'è uno Non sei fatto What the fuck Fermo adesso Allora, piano Mira Mira Bom, fermo Ok, c'è uno Sta arrivando uno Adesso fermo Mira Ok, lucidiamo Ora fermo No, 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 no Fermo Ti dico di dove andare Qua, qua Tagata al muro Qua Stai qua Sta arrivando Sta arrivando Aspettalo Aspetta Vai, 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 vai No, no, no Sei allergico Non andare lì Ti uccidono Facciamogli giro da dietro Ora Veloce 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 Entra Dentro 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 Guarda bene Guarda bene Guarda bene Aspetta Non saltare Dai un'occhiata Ho visto qualcosa A sinistra Fa lo stesso Ok Nevo prenderle Ci ha visto Ci ha visto Ci ha visto Dietro 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 Eccolo là C'è uno che qua Gira 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 qua Girati tutto Corri Eccolo là E' sinistra Vai Ora Guarda No, no, no Ora spawno là Su, là Su Girati 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 Aspetta Granata No, no La granata non ci vuole Si scoprono Perché vedono scoppiare Guarda Mira là Dritto Dritto Devi sempre Devi sapere dove Ma dai Ma no Non è possibile Che non muoia Aspetta Fermo Ora corri dritto 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 Mira, 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 mira Piano, con calma, con calma adesso Scialta Piano Vai Sministra Eccolo qua, eccolo qua No, no Kevin, no Girati Fermo Mamma mia Non scopo Dritto là Dritto là Ditto qua Riposo Ora arrivano da là Aspetta Fermo qua Mento un po' di Mira Miraggio Vedi che ti A lanciare le cose Mi scoprono Oddio Ma no Kevin Non c'è Veloce Ma cosa Come si è Hatchhot Ma Guardate Guardate gli hacker Come si ha sbeffetto Siamo in positivo Kevin In positivo Siamo gli unici in positivo Nella squadra quasi E siamo in due Quindi siamo bravi Però devi Devi ascoltarmi No Non devi mai E Bruno si chiama C'è Bruno Già qua Da qua Dentro 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 Mamma Via 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 Gira 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 destra Dentro la casa Da qua Ok da qua Destra Dritto attaccato al muro Dritto attaccato al muro Giù Fermo Fermo immobile Fermo 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 C'è avendo di sopra Fermo Mira 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 ovunque Ok Sono subito No no Si sono subito Sono a sinistra Sto facendo Vai 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 Pro pro game Ma guarda Ma che di Mira Ma Ma gli ho sparato Si ma si ha cucchiato Anche lui Guardala Guardala Bravo Ma dai Come siamo morti Aspetta voglio vederla Con tutti con l'infiltrazione tattica Aspetta 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 Vai 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 10.000 No 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 Si si uccidono da là Si uccidono Le infiltrazione tattiche Si ma tu non devi mai fare così Ora riproviamo vai No Più giù Si Non proprio lì Aspettiamo Lanciamo Mamma Ora aspetta Vai 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 Spara 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 Ma dove è su? Sono ricamperati Bisogna fargli il giro Vai dentro la casa Dentro la casa Dai che abbiamo ancora tempo E siamo 17-18 Siamo avanti in negativo Cazzo Allora entrati qua Su Mira Ora il giro Gira Fermo Mira Eccolo qua Fermo Fermo ora Dentro qua Dentro qua Dentro qua Dentro qua Dentro qua Dentro qua Ok sono a sinistra Ora Fermo Fermo E qua E qua E qua Fermo Ci ha visto Eccolo Eccolo Guarda Bruno Bruno Barbiere Fan culti è Bruno A casa Bruno No Fermo Dove cazzo è sto qua Mamma che quasi quasi lo distruggevamo Guarda Alec con assassino invisibilità Girati Mira Che cazzo è Ha perso ragazzi Però 18-20 Non è male Guardate l'altra squadra Stem 10-25 Standby 4-19 Edorf 4-4 Heisenberg Che è una serie del cinema 22-26 E noi siamo 18-20 Che è un risultato molto pari al rateo 1 Quasi E siamo in 2 però Gli altri Stem Leggiavano da soli Gli altri non penso che siano stati in uno Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento e mi piace Come sempre ragazzi Passate dalla pagina Facebook E scrivetevi Alle cerchi di Google Plus Scrivete qua sotto nei commenti Se vi è piaciuto il video Comunque E se volete altri video di questo genere Quindi io e Kevin Ci combattiamo Diciamo con le nostre menti Per distruggere gli avversari Non è facile Perché io dico di andare da una parte Dico magari Andare dall'altra È un compromisso In pratica sono due menti Non è che è così facile Perché uno spara E uno non lo fa E uno ne va da fanculo L'altro Ecco più o meno Due menti Lui dice Lui è anti-crow duty Lui è anti-scovo Io sono più per Per colpirle misine al dietro Lui invece più È più un treno in corsa Ma in tutti i giochi Bene ragazzi Siamo giù dal termine del video Dalla settimana è tutto E bene ragazzi Yahoo E un nuovo saluto a B-Shock Che oggi non c'è Arcade Adesso facciamo Arcade Andassù Quella Grazie a tutti